Musica Si presenta per noi una importante occasione per far conoscere il nostro mondo, un settore molto importante per l'economia ligure, ben 47.000 sono le imprese artigiane e rappresentano un terzo di tutte le imprese in Liguria. Noi abbiamo pensato a questa iniziativa perché così l'amministratore potrà capire meglio tutti i ruoli di un imprenditore artigiano che lavora per ben otto ore manualmente, direttamente nella sua impresa, poi si deve occupare dell'amministrazione, del rapporto con le banche, del rapporto con i clienti, deve occuparsi anche del confronto con la pubblica amministrazione. Per cui semplificare la vita di questi imprenditori, disburocratizzando, lasciandoli lavorare. Quello che loro meglio sanno fare è proprio lavorare direttamente nella loro azienda. Claudio Burlando diventerà mastro cioccolatiere per un giorno presso l'impresa Viganotti. Angelo Berlangeri dovrà cimentare secondo smontaggio delle prime cabine ai bagni marini di Varazze. Avremo Raffaella della Bianca che diventerà grafica per un giorno e anche Marusca Piredda, consigliere di Vua e milanese, dovrà cimentarsi una prova terribile, fare il pesto e per giunta al mortaio. Con entusiasmo hanno scelto ognuno un proprio settore, un proprio mestiere, saranno una giornata intera a fare l'artigiano in tutte le sue fasi e sarà per noi un'occasione anche per documentare poi attraverso dei servizi fotografici quant'altro questa loro capacità, questa loro disponibilità. e con questo materiale è nostra intenzione fare un calendario, un calendario di cui ricavato verrà devolto in beneficenza.